Buon pomeriggio a tutti, oggi è mercoledì 30 agosto, sono le 17.52 e torniamo a parlare di Ethereum. Che cosa vi avevo detto nella scorsa analisi? Che mi aspettavo ancora discesa prima di un rimbalzo e poi mi aspettavo una maggior discesa che ci avrebbe riportato giù. Che cosa è successo? Il rimbalzo è arrivato ma è stato molto forte nella giornata del 29.8 e quindi chi ha ragionato di vincoli ha guadagnato bene. Adesso però questa parte non è più attuale. Fino a qui tutto ok. Rimbalzo è arrivato come da aspettative. Adesso questa parte la togliamo. Perché? Perché come vi avevo detto, dato che con questo rimbalzo non abbiamo violato swing, noi dobbiamo capire però che cosa sta succedendo. E che cosa sta succedendo? Ce lo può dire con molta chiarezza l'inverso. Perché l'inverso? Perché a partire da questo massimo, quello del 14.7, siamo scesi per 48 barre. Quindi siamo andati già in una durata che cosa. Da un primo mensile inverso, come disegnato, a 26 barre, e un secondo mensile inverso che sta andando a cercare la sua chiusura con un buffer a rialzo. Poteva farlo in altri modi, tutto quello che volete, eccetera. Ha scelto di farlo in questo modo. Quindi togliamo tutta la parte corretta, ovvero discesa per la chiusura del settimanale e poi rimbalzo per la salita. Fatto, come da analisi. Adesso però ragioniamo di inverso, come detto. Come possiamo scomporre questo mensile inverso? Abbiamo un 1, 2, 3. Primo, secondo, terzo t-3 inverso. Cioè adesso abbiamo un quarto t-inverso, settimanale inverso, che ha bisogno ancora di una barra, o anche leggermente meno, sotto questo massimo a 1.745,88 dollari, prima di fare così, di ritornare qui sopra. Ok? Non state capendo assolutamente niente di quello che sto dicendo perché non siete abituati al tempo ciclico? Facile. Andate qui sul mio canale con oltre 15.900 iscritti e oltre 2.400 video in cui potete vedere se sono un valido analista quantitativo oppure no. E faccio analisi gratuite dal vivo da oltre 6 anni. E potete trovarle sia qui che su TradingView, ancora se andate a cercare Jacopo Marini. E andate su playlist. Sulla playlist andate a vedervi il corso gratuito che parla di cicli, fatto da oltre 29.000 persone, quindi più degli iscritti. È concluso però soltanto da 7.000 persone, quindi soltanto qualcuno andrà avanti con il trading e sarà profittevole. Profittevole non tutti, 7, 14, 21, 28, meno del 25% delle persone che hanno iniziato il corso ma che non l'hanno finito. E in questo modo avrete i rudimenti dell'analisi ciclica per poi passare alla mia evoluta, ma anche il registrato. A questo punto ritorniamo a noi. Qual è l'aspettativa fondamentale? L'aspettativa è di, come già detto, ritornare a salire, voglio però disegnarla meglio come cosa, sopra questo massimo, sopra questo massimo qua, questa parte qua, la tolgo? No, questa era valida. Ok. Il movimento che ci aspettiamo è, in qualsiasi tempo vogliono farlo, due giorni, tre giorni sotto, intanto basta ancora tutta la giornata di domani sotto con qualsiasi colore di candela, questo movimento qua. Mediamente per andare a finire a questo target qua. Allora, basta andare a pari della candela da cui è partito il quarto settimanale inverso. Si può arrivare tranquillamente anche ai 1800 o dove passerà la media mobile a 200 periodi insieme alla media a 50 in rosso che, ahimè, sta rischiando di andare in death cross. Perché sta andando in death cross e rischia quindi di, dopo fatto il rimbalzo, farci ritornare poi a scendere? Perché qui, se tutto verrà confermato, abbiamo già un secondo semestrale vincolato a ribasso. E la prima parte del semestrale, ovvero il primo trimestrale è stata fatta così a 64 barre, 64 barre durata media di un trimestrale. Da qui o troviamo la forza per ritornare qui sopra, dove mettiamo un bel punto J, mettiamolo qua, e ci si arriva molto rapidamente prima della fine del movimento, non dalla ventiquattresima barra in avanti, oppure, chiuso il movimento, dalla ventiquattresima barra di secondo mensile inverso in avanti, dalla ventiquattresima avanti, si rischia di nuovo di ritornare a sprofondare. Quindi qui mettiamo un bel punto J, e il punto J ci dice, se non si torna qui sopra, molto rapidamente, prima della ventiquattresima barra, quando lo raggiungeremo eventualmente anche, ma potrebbe non essere mai raggiunto, e poi torneremo a scendere. Attenzione, perché qui non andrà soltanto a chiudere un trimestrale inverso e un secondo mensile inverso, ma andrà potenzialmente a chiudere, che cosa? Un semestrale inverso. Quindi, se non è prima, come vi dicevo, il ritorno qui sotto, e guardate bene come è centrato l'indice, secondo mensile chiuso a 36 barre, partenza di un nuovo mensile da qui già arrivato a 13 barre, nessuna conferma di swing, ecco perché stavamo aspettando, ecco perché vi dicevo, lavoriamo sui T-3 e sui vincoli, ok? Senza gli swing, dobbiamo fare molta più attenzione, ok? Chiuso questo movimento, quindi fatto così, ok? Il rischio poi è di rischio, il rischio papabile è poi di ritornare a fare così, ok? Quanta fatica fa quando siamo al caldo, eh oggi? E poi di fare così, per la partenza, di un nuovo semestrale inverso, ok? Poi ha tutto il tempo, eh, per continuare a salire, ma appena, appena avremo 24 barre di inverso e magari una candela verde, la ventiquattresima sarà verde, dall'1,9 in avanti, io inizierò ad avere timore, ok? che ci siano discesi, in realtà, se vogliamo essere filosofi, ok? Anzi, se vogliamo essere più concreti, se rimarremo almeno due barre qui sotto, ok? E non andremo in chiusura con il terzo T-inverso del mensile, avremo un pochino più di tempo, ovvero quanto tempo? Se da qui avremo conferma dalla partenza del quarto T-inverso, avremo 5 giorni in più, quindi che cosa faremo? Avremo eventualmente, 22 più 5 giorni, fino al 4 di settembre, prima di iniziare poi effettivamente a scendere, ok? Tra l'altro, guardate, ho disegnato bene, proprio 4 di settembre qua, no, 12? 4 di settembre, boh, 1,2,3,4, no, ok? Beh, l'ho fatto qua, più interessante, ok? Sarebbe così, in questo caso. Quindi, mi raccomando, fate attenzione, d'accordo? Abbiamo possibilità, se rimarremo due barre almeno qui sotto e in violazione del vincolo, anzi del minimo, che fa partire, che ci dà la certezza della partenza del quarto T-inverso, abbiamo più tempo per continuare a cercare un massimo in questa zona, attorno ai 1.800. Viceversa, se vorranno chiudere con un 3 tempi, da quando avremo la condizione necessaria e sufficiente per chiudere il semestrale l'inverso, cosa richiede un semestrale l'inverso per chiudere? 3 gradi inferiori, un T più 1 inverso ribassista, ovvero richiede almeno 12 giorni, quindi abbiamo già persino 16, 12 giorni. Così, come minimo, fino al 4 di settembre, di nuovo, di tentativi di rialzo e poi si può iniziare a scendere, ok? Quindi, attenzione, rimbalzo, target ottimale attorno ai 1.800 dollari e poi rischio di iniziare a scendere da dopo la 24esima barra in avanti. Vi ringrazio per il vostro tempo, spero che questa analisi sia estremamente utile per tutti, nel caso mettete un bel like e consigliate il vostro, anzi, consigliate questo canale ai vostri amici se vogliono smetterla di essere presi in giro dalle notizie che arrivano dopo i movimenti e hanno voglia di comprendere come si muovono davvero cripto e mercati e indici invece che sta a rincorrere target assurdi che poi magari non si realizzano mai. Buona giornata a tutti! Grazie! Grazie!